Almeno tre persone sarebbero morte, altre due sarebbero rimaste ferite nell'attacco compiuto da Israele contro postazioni siriane sulle alture del Golan. Il raid è stato condotto nei pressi di Cuneitra. Le vittime farebbero parte di una milizia locale che appoggia il regime di Bashar al-Assad. Si tratta del secondo incidente nella zona negli ultimi due giorni.